Buongiorno e bentrovati dal TG Flash. Come era nell'aria negli ultimi giorni, anche la sezione civile del Tribunale di Sanremo sarà completamente spostata ad Imperia a seguito dell'accorpamento dei due palazzi di giustizia. Il presidente del Tribunale del Capoluogo, Francesco Pinto, ha infatti firmato il provvedimento nel quale ha dichiarato di non volersi avvalere per due anni del mantenimento della sede sanremese per le cause civili, ritenendo che queste possano essere affrontate anche ad Imperia. Forte ed immediata la reazione degli avvocati sanremesi che potrebbero mettere in atto nuove manifestazioni di protesta. Intanto a Roma si susseguono le riunioni per cercare di annullare gli accorpamenti, anche se ormai sembra essere troppo tardi. Taggia come unica stazione ferroviaria a servizio anche della città di Sanremo. E' questa la proposta del comune tabiese che sarà avanzata ufficialmente sabato prossimo che ha fatto infuriare gli amministratori sanremesi, un caso che terrà banco nelle prossime settimane. Sentiamo. Il nuovo capitolo per Sanremo dopo la perdita del tribunale si chiama stazione ferroviaria. Il comune di Taggia ha infatti proposto di far diventare la propria come la stazione di riferimento anche per i sanremesi. Gli utenti della città dei fiori rimarrebbero quindi senza stazione e sarebbero obbligati a recarsi in quella di Taggia con un servizio di bus navetta per prendere il treno. La proposta sarà avanzata ufficialmente sabato prossimo dall'amministrazione tabiese all'assessore regionale ai trasporti Enrico Vesco. Se tutto questo dovesse davvero andare in porto sarebbe un bello smacco per la città di Sanremo che sta mostrando cedimenti rispetto al ruolo di assoluto predominio di un tempo. Vero è che l'attuale stazione ferroviaria di Corso Cavallotti, inaugurata solo poco più di dieci anni fa, presenta grandi carenze e problemi come i tapirulan che sono rotti una volta sì e l'altra anche per non parlare poi della grande scomodità del tunnel di 400 metri per raggiungere i binari dall'ingresso. Lasciamo stare l'estetica della struttura che la fa apparire come un bunker della seconda guerra mondiale. Sta di fatto che Taggia ora vuole essere più importante di Sanremo anche se la sua stazione sicuramente più bella e funzionale ha i suoi problemi sia di manutenzione sia dei tantissimi locali rimasti vuoti che la rendono la cosiddetta cattedrale nel deserto. Immediata la reazione dell'amministrazione sanremese che ha parlato senza mezzi termini di basso campanilismo accusando i colleghi di Taggia di volersi fare pubblicità sfruttando il nome di Sanremo. Quello che è certo è che questa sembra essere una guerra tra poveri dove a rimetterci sono sempre, guarda caso, i cittadini. E' stata discussa a Genova l'interrogazione del consigliere regionale Marco Scaiola riguardante il taglio effettuato dalla provincia di Cuneo del servizio di trasporto su gomma sulla tratta che collega Cuneo ad Imperia. L'esponente del PDL ha spiegato che si tratta di un servizio di straordinaria importanza per le persone che vivono nelle località dell'entroterra imperiese. Scaiola ha poi proposto alla giunta regionale di non procedere alla nomina dei due nuovi direttori generali utilizzando nelle risorse per salvaguardare i servizi a favore dei cittadini. Entro il 2015 in Liguria nascerà un'agenzia unica che gestirà il trasporto pubblico locale su tutto il territorio regionale. Una novità stabilita dalla giunta regionale che ha l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio salvaguardando gli attuali livelli occupazionali in servizio. L'aggiunta regionale Ligure ha approvato la riforma del trasporto pubblico locale che prevede la nascita di un'agenzia per gestire il bacino unico regionale. La riforma porterà entro il 2015 ad un'unica gara per affidare la gestione del trasporto locale. L'agenzia verrà costituita solo in seguito all'adesione sia delle province sia dei quattro comuni capoluogo. La nuova legge consentirà dunque che il servizio venga affidato ad un unico soggetto o ad un'associazione temporanea di imprese in un unico lotto relativo a tutto il territorio regionale con la possibilità di effettuare una gara unica per integrare anche il servizio ferroviario. Questa nuova legge si prefigge di migliorare il servizio pubblico su gomma in tutta la regione salvaguardando gli attuali livelli occupazionali prevedendo infatti la clausola sociale per tutto il personale ad oggi impiegato nelle aziende mantenendo le attuali condizioni economiche e normative. La legge prevede inoltre che l'aggiudicatario del servizio mantenga un'ampia prevalenza nella sua gestione restando unico responsabile a garanzia degli impegni assunti in relazione a quantità e qualità del servizio. È un passaggio importante che raccoglie anche le difficoltà, le diffidenze, i dubbi insomma che in questi due anni di discussione con il territorio, con gli enti locali, con i lavoratori delle varie aziende si sono manifestati e nello stesso tempo manteniamo in capo alla regione la pianificazione del servizio quindi la definizione dei servizi minimi che saranno appunto coperti sempre con risorse regionali. Si terrà venerdì sera alle ore 21 nel Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo il musical La strada per il Paradiso presentato da Simone Leonardi e domani mattina alle 10 a Portateatro verranno distribuiti biglietti gratuiti massimo due a persona fino ad esaurimento. E torna a Mendatica il fine settimana dedicato alla rievocazione della transumanza. Venerdì, sabato e domenica l'evento per grandi e piccoli con un nuovo appuntamento con la cucina bianca. I particolari in questo servizio. Torna a Mendatica la Kermess di Tre Gioni che ormai da diversi anni rievoca gioie e fatiche della vita dei pastori legate in particolare alla transumanza e la cultura comune dalle genti brigasche stanziate nella zona del Monte Saccarello. La festa sarà occasione di incontro educativo fra le scuole del Palente Ligure e del Basso Piemonte nella giornata di venerdì che proporrà laboratori tematici e visite guidate. Sempre venerdì a partire dalle 15 il suggestivo momento della transumanza con l'arrivo delle greggi e delle mandrie in paese e la mongitura. Il sabato invece in programma la tradizionale fiera di San Matteo nata come mercato del bestiame ed ora è divenuta esposizione di prodotti tipici e artigianali seguita a partire dalle 16 dal corteo storico e dal caratteristico Palio delle Capre con Baglio Occitani. Domenica saranno invece protagonisti i giochi di una volta con animazione per bambini e famiglie al Parco delle Canalette alle 10.30 e alle 16.00. Gli stand gastronomici incentrati sulla cucina bianca dei pastori e curati dalla Proloquo di Mendatica saranno aperti nel campo sportivo il sabato alle 12.00 e alle 19.00 e la domenica alle 12.00. La manifestazione è organizzata dalla Proloquo e dal Comune di Mendatica in collaborazione con le associazioni provinciali degli agricoltori, degli allevatori e il Parco Alpi Liguri. L'evento inoltre è inserito nel calendario EcoFest realizzato con il contributo dell'assessorata all'ambiente della provincia d'Imperia e dell'assessorata all'ambiente della regione. La festa infatti si svolgerà secondo criteri di sostenibilità ambientale. Vi ricordo che questa sera alle ore 21.00 sarà trasmessa la prosecuzione del Consiglio Comunale di Imperia. La nuova puntata di Attuto Ponente andrà invece in onda alle 19.40 e alle 23.40 e sarà dedicata al cambio di guardia, al comando della Capitaneria di Porto di Sanremo con il passaggio di consegne dal tenente di Vascello Andrea Betti al nuovo comandante Pierpaolo Danieli. È tutto per il TG Flash di oggi, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.